Ma i social network, per noi e per i nostri ragazzi, sono solo una perdita di tempo? Beh, io sono convinto che molti sì, stiamo perdendo tempo sui social network, è indubbio, ma nella maggior parte dei casi invece c'è una, diciamo una pulsione, una richiesta di utilizzo i social network anche da parte dei nostri ragazzi perché sono profondamente convinto che i social network siano un bisogno dell'uomo. Il tutto parte da uno studio appunto di uno psicologo americano famosissimo che si chiama Maslow e dalla sua piramide, che qui potete vedere la piramide dei bisogni umani di Maslow, come potete constatare qui, ha la base ai bisogni fisiologici, quindi che ne so, dormire, bere, mangiare, ma poi vengono dei bisogni di sicurezza e poi ancora sopra vengono dei bisogni di relazione e poi dei bisogni, diciamo, riferiti alla persona in sé di autostima e autorealizzazione. Beh, io sono convinto che i social network possano rispondere a praticamente tutti i bisogni, o quasi tutti i bisogni, che ci sono in questa piramide. E quindi sostanzialmente una volta tolti i bisogni, quelli un po' più materiali, quelli fisiologici, poi ci sono dei bisogni sostanzialmente di sicurezza. Essere parte di una community online può anche rispondere a un bisogno di sicurezza, perché se sei in branco sei al sicuro, ma se fuori dal branco, visto che sei un animale sociale, potresti essere in pericolo. Ma voi pensate a tutti quei bisogni di carattere relazionale. Quando noi nasciamo siamo inseriti all'interno di una rete sociale, chiamiamola così, che è la famiglia, che poi si ingrandisce sempre di più, nel senso che poi vai a scuola, all'oratorio, in una squadra di calcio, con i colleghi di lavoro, le reti sociali si ingrandiscono. Però guarda caso, la traduzione di rete sociale è social network. E il discorso è che adesso le reti sociali sono altrove. Non sono più basate sulla geografia del luogo dove nasci, ma sono appunto basate sugli interessi e sono online. Si sono in qualche modo, diciamo, virtualizzate. Ma se guardate la piramide di Maslow, c'è anche una parte dell'autorealizzazione. Vi siete mai chiesti perché la gente passa il tempo a farsi selfie? Beh, passa il tempo a farsi selfie non soltanto perché ha un disturbo narcisistico della personalità, anche perché vuole un feedback. Come fai a costruirti un'autostima? Ti metti nella tua stanzetta e dici sono bravo, sono bello, sono bravo, sono bello? Non funziona così. Funziona quando gli altri ti danno un feedback e tu ti senti in qualche modo appagato e quindi la tua autostima cresce. Ecco, tutti questi bisogni possono essere soddisfatti dei social network ed è questo il motivo per cui Facebook, Instagram e gli altri social stanno avendo un successo così clamoloso e planetario.